Applausi finali peraltro ben meritati dalla compagnia di Antonio Grosso che è anche autore con 227 repliche con quella dell'altro giorno di questo minchia signor tenente che ha chiuso il sipario sul cartellone della stagione teatrale del Garibaldi di Modica con un bilancio positivo e molto incoraggiante. La scelta di questa pièce, anche questa dai contenuti molto seri e impegnativi ma affrontati con allegria e leggerezza si è mossa nell'ambito della ragion d'essere di questa stagione firmata a Carlo Cartier. Uno spettacolo ben riuscito in scena ininterrottamente dal 2008, minchia signor tenente con la regia di Nicola Pistoia con Antonio Grosso, Gaspare Di Stefano, Alessandra Falanga, Francesco Nannarelli, Antonello Pascale, Francesco Stella, Ariele Vincenti e con Natale Russo ha intrattenuto con lievità un pubblico che ha molto apprezzato la scrittura, ora ironica e ora irriverente e spesso esilarante di un testo che affronta il tema della sicurezza della collettività che storicamente è riposta nelle mani dei carabinieri. Minchia signor tenente racconta una storia semplice, in un piccolo centro di un'isoletta siciliana c'è una caserma dei carabinieri dove scorre una vita tranquilla, priva di patemi. Gli appuntati, mandati lì e nati in regioni diverse, evadono di tanto in tanto qualche pratica sui permessi di caccia. C'è un omettino del posto, un simpatico Natale Russo caratterista di antica data che spesso li raggiunge per sfoggere incredibili denunce. Una panettiera innamorata del soldatino Umbro Marchigiano, un amore che il regolamento militare vieta e un latitante che gira in paese sul quale è meglio far finta di niente. Il filo della tranquillità quotidiana comincia ad agitarsi all'arrivo di un tenente inviato al comando generale predisposto all'assegnazione di una missione delicata, scortare un noto magistrato minacciato di morte dalla mafia. La commedia scatena irresistibili risate in un alternarsi di battute in vari dialetti che delineano personaggi che, oltre a essere carabinieri, sono prima di tutto uomini. Una caserma che sembra essere una casa dove si incontrano personaggi di varie umanità, tutti uniti nella lotta contro il malaffare, anche a costo della vita. Ma sulla scena aleggia come un fantasma un temibile mostro, la mafia che avvelena la vita dell'isola, ma anche di tutto il nostro paese. Uno spettacolo che affronta un tema difficile e spinoso con intelligenza, ironia e sensibilità.